Io vorrei fare le recensioni Come fa Curciani sulla zanzara Cioè buttarle lì Alla cazzo di cane Però non si può Allora le provo a fare Un po' al mo' di Davide Che è sempre abbastanza rustico Però non è proprio così grezzo Perché Questi diffusori qua Sono proprio Il diciamo Tranne quella roba che troviamo Su internet cinese Da 10 euro 20 euro Sono proprio molto economici Quasi fatti alla cazzo di cane Ma Suonano bene E poi Se uno li va a guardare Non sono fatti male Anzi Sono i diffusori Che tra l'altro io vendo di più E che accontento di più Il cliente Perché hanno un rapporto Qualità prezzo Strepitoso Io vendere Indiana Line Che è una ditta italiana Oramai presente dal mercato Da 50 anni e forse più Cioè È una soddisfazione I prezzi sono corretti E I prodotti Sono veramente Della madonna Per quello che costano Qui abbiamo Tesi Indiana Line Tesi 261 No Color nero 10 minuti fa Ho fatto un video Sul Un impianto Diciamo Entro i 1000 euro E ce li ho messi Perché suonano bene E Le sorelline minori Le nota 260X Io avevo fatto una Videorecensione Sempre Sulle 260 Le X Sono ancora più belle E Hanno sempre un costo Tutto sommato Molto Molto Competitivo Allora Andiamo a Raccontarvi I costi Queste qua Costano 305 euro Di listino La coppia E ci sono due finiture Così nera O color legno Reflex Anteriore Molto furbo Perché ci permette Di addossarle Anche al muro Mettere dentro Una Scafalatura Insomma Non ci sono Problemi Suono Non invadente Molto Molto Corretto E non Affaticante Però Riescono a Riprodurre Tutto Ok Che io ho visto Altre Diffusori Anche molto Più Costosi Che Non Davano Questo Diciamo Piacere D'ascolto Ecco Tanto Per Intenderci Dopo Però Prendo il mio Microfono Bello E ve li Faccio Anche Un po' Ascoltare Soprattutto Vi voglio Ascoltare La differenza Tra i due Se ce n'è Ce n'è Poca Però Un pochino C'è Ecco E Questi qua Montano Come Devo dire Rispetto Alle tesi 260 Hanno fatto Veramente Un bel Miglioramento Hanno tirato Su Leggermente Il medio Alto Che prima Era un pochino Più Indietro Gli hanno dato Quel Leggero Che è Veramente Molto Molto Piacevole Ecco Ora Passiamo Invece A serie Nota Come Ho letto Sono andato A leggermi Una recensione Prima Anche Per farmi Aiutare D'altra Gente Per trovare Anche Dei vocaboli Un po' Diversi Ho letto Una recensione Che vi consiglio Di leggerla Su google Digitate Indiana Line Nota 260 Recensione La trovate Perché È Una delle Prime Dove Parlava Di Diffusori Proprio Ben Costruiti Per Quello Che Costano E Che Non Diciamo Riproducevano Tutto Bene Senza Però Voler Andare A Riprodurre Delle Cose Che Non Erano Capaci Ecco Questa Un po' È La Filosofia Nel Senso Hanno Fatto Tutto Bene Tutto Corretto Ma Non Si Sono Spinti Oltre Perciò Abbiamo Un Diffusore Ben Bilanciato E Ben Suonante Questo A differenza Dell'altro Ha il reflex Posteriore Ok Connettori Sono sempre Bellini Ci possiamo Mettere Sia Le banane Le forcelle Ho Ho Anche Il cavo Spellato Che Alcuni Me Chiedono Ma Dove Metto Il cavo Spellato Adesso Ve lo Faccio Vedere Ecco Vedete Due Foretini Qua Ci va Il cavo Anche Spellato E Devo Dire Che Non È Niente Male Bene Le Finiture Sono Due Questa Color Noce Che Per me È Veramente Bella No E L'altra Tutta Nera Il davanti E il sopra Sono tutte In finta pelle Però Veramente Molto Belli Costi Ad oggi 2018 Le nota 260 XL Costano 256 euro Di listino Perciò Due dieci Da scontare Insomma Alla fine Ballano 40 euro Sono pochi Sono tanti Non lo so Però Questo è Ok Allora Ecco Il super Microfono Gary Rafferty Becker Streed Ecco Quello Che Io Posso Notare No Cioè Intanto Sono Diffusori Generici No Cioè Che Riproducono Tutto Vanno bene Un po' Per tutto No Ma Adesso Quasi Tutte Le case Cercano Di farlo In questa Maniera Però Il basso Esce È Un bel Basso È Medio Alto Si sente Molto Bene Per quello Che costano Adesso Proviamo Le altre Ecco Adesso Adesso Vi Faccio Sentire Le 260X Ecco Io Io Non so Se Da Casa Riuscite A Capire Ma Ve lo Dico Io Quello Che Riesco Ascoltare Sono Un pochino Più Asciutte Rispetto A Queste No Un Pochino Più L'Affaticamente All'Ascolto Queste Possono Anche Risultare Migliori Per chi Cerchi Invece Un diffusore Un po' Più Morbido Un pochino Più Rilassante Ecco Sicuramente Questa Bene Come sempre Se avete bisogno Di nuovo Usato Di Hi-Fi Accessori Tutto Quello Che Vi Viene In Mente O Scrivetevi Una Mail Andate Sul Che trovate Di tutto E di più Ciao Da Davide